Un'auto con a bordo due ragazzi è uscita di strada nella serata di sabato 13 gennaio. È accaduto intorno alle 18.30 in via Levone a Rivara ad una forfiesta. La vettura è andata dritta ad una curva e dopo aver impattato contro un muretto è finita nella boscaglia tra gli alberi. Sul posto sono intervenuti la croce bianca del Canavese, la croce rossa di Castellamonte e i vigili del fuoco di Rivarolo. Ferito ma non in pericolo di vita il conducente dell'auto, il leso il passeggero. Entrambi sono stati comunque trasportati all'ospedale di Ciriè. Non si esclude che l'uomo alla guida possa essere stato colto da malore ma sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Rivara. Grazie. Grazie. Grazie.